Se volete attraversare il deserto dell'Ignaren dovete andare subito nei sotterrani. Ci sono i Teens e ve li dicono loro come fare. Voi dovete sapere che i Teens sono dei vostri compagni e vi dicono come fare se vogliamo attraversare il deserto dell'Ignaren. State a sentire. Ehi Nasone, se vuoi attraversare il deserto dovrai passare dai sotterranei. Ma non sarà facile, i sotterranei pubblicano l'Ignaren e quei vostri sono infingibili. Sì, beh, hai l'idea migliore. Direi carino. Ascoltami bene Nasone, non lasciare mai avvicinare l'Ignaren, capisci? Mai, se ti mettono le grinchie addosso, sei morto. Sono lieto di avermi conosciuto. Grazie. Ascoltatemi ragazzi. Non dovete mai far avvicinare l'Ignaren, lo capite? Mai, perché se vi mettono le grinchie addosso, siete morti.